E lì no, non penso di abbandonare la recitazione, no, anzi ne sono sicura, non l'abbandono, finalmente ho studiato, mi sono preparata e questo lo voglio fare, lo voglio portare a termine. Se riuscirò nel mio intento bene, se no ce ne saranno altre di cose che farò, però no, io voglio fare l'attrice.